C'era da aspettarselo, Bruxelles fa il tifo per Macron. I risultati del primo turno delle elezioni francesi di domenica non lasciano dubbi per coloro che lavorano nella capitale d'Europa. Tra la candidata del partito nazionalista Marine Le Pen e l'europeista Emmanuel Macron, il loro sostegno a quest'ultimo era quasi inevitabile. Vesta un certo sgomento, afferma Sandrine Coppola, francese e funzionaria europea, il fatto che Marine Le Pen abbia comunque raccolto oltre 7 milioni di voti e che il secondo turno imponga di fare una scelta tra Macron e il Front National che non si basa sul loro progetto sociale perché io non mi riconosco nelle idee sostenute da Macron. Marine Le Pen ha affermato che, se eletta, indirà un referendum sull'uscita della Francia dall'Unione Europea. Ciò potrebbe seriamente mettere a rischio l'integrazione europea già messa a dura prova dalla Brexit. Se due grandi paesi come la Francia e il Regno Unito, afferma questi ingegneri, lasciano l'Unione Europea, allora vorrebbe dire fare un passo indietro. Ritengo quindi che ciò sia improbabile e pertanto sono molto contento del risultato delle elezioni. C'è chi invece è ottimista come François Michelet? Secondo lui l'Unione Europea saprà andare avanti nonostante la vittoria di Marine Le Pen. Credo che l'ansia sia puramente mediatica, ma non credo che l'Unione Europea sia preoccupata per quello che accadrà in Francia. Sarà tutto come prima, bisognerà rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo. Il presidente della Commissione Europea Jacques-Claude Juncker si è congratulato con Macron domenica augurandogli di uscire vincitore dal secondo turno delle presidenziali francesi. Grazie.